Buonasera e bentornati in onda, buona domenica, sono le 20 e 37 minuti, buonasera David. Ciao cara concita, buonasera. Allora David, riprendiamo da dove eravamo rimasti ieri sera con il presidente Rampelli, fratelli d'Italia, abbiamo parlato della manifestazione di Milano, ne è nata una polemica di cui forse avrete sentito nel PG della sera perché appunto Rampelli a un certo punto ha detto che le coppie omosessuali spacciano questi bambini per loro figli, quindi da questa frase è nata una polemica che è andata avanti per tutto il giorno, ma insomma non è tanto una questione di parole, è una questione di sostanza. Oggi abbiamo con noi stasera una delle protagoniste della manifestazione di ieri, Chiara Pendino, benvenuta, Chiara Pendino, deputata del Movimento 5 Stelle, ex sindaca di Torino, e in studio Massimo Franco, ben tornato, Massimo Franco, in collegamento Piero Senaldi, che ha, scusami Pietro Senaldi, perdonami Pietro Senaldi, con direttore di Libero che ha un suo peculiare punto di vista sulla vicenda, che vedremo insieme fra pochissimi minuti, un momento e torniamo con voi. Moltissime famiglie rivendicano i propri diritti negati e noi siamo al loro bianco. Votare a destra nelle mie condizioni è come se un capretto votasse per la Pasqua. Lotteremo perché è inaccettabile il passo indietro che sta facendo questo governo. È una lotta giusta. I diritti civili sono i diritti di tutti. C'è un governo che è accecato dalla sua ideologia. Sono con voi! 20 e 44, buona domenica. Buona domenica a Cocina De Gregorio e a tutti i nostri ospiti. La battaglia sui diritti dei bambini figli di coppie gay. Da qui ripartiamo perché ieri sera la notizia proprio da qui è partita, dove oggi è seduto con noi l'editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Massimo Franco. Ieri c'era il vicepresidente della Camera Rampelli con le sue dichiarazioni, che tra poco rivedremo, che hanno tutto il giorno tenuto banco. Buonasera al condirettore di Libero Pietro Senaldi. Oggi Libero è uscito in edicola, lo vedremo tra poco, con un titolo piuttosto particolare. Il corteo per l'utero in affitto, donne che odiano le donne. In realtà, ma adesso da qui ripartiremo, il corteo non era per l'utero in affitto, ma per il riconoscimento dei diritti dei figli nati dall'utero in affitto. Quindi non per riconoscere in Italia l'utero in affitto. Buonasera a Chiara Appendino, che è stata sindaca di Torino, una delle prime sindaci a riconoscere. Buonasera. I diritti dei figli delle coppie gay. E oggi deputata e ha presentato anche un disegno di legge, proprio in questi giorni, per colmare questo gap. Partiamo da Libero, direttore Senaldi, visto che avete messo proprio in prima pagina, grazie regia, tra le donne che odiano le donne, la Appendino, che è qui con noi in studio, collegata, e Ellie Schlein, la leader del Movimento 5 Stelle, la leader del periodo democratico. E si intravede anche la Pascale, che ha partecipato alla manifestazione. Senaldi, partiamo da lei, oltre all'errore del titolo che abbiamo evidenziato, ma perché donne che odiano le donne? Beh, per me due cose. Non c'è nessun errore nel titolo, dal nostro punto di vista. Quello non era un corteo per i diritti dei figli dell'utero in affitto, che hanno lo stesso diritto degli altri, perché il padre biologico li può riconoscere subito, e poi hanno, come ha spiegato anche oggi la Ministra Rocella, la procedura agevolata, e pertanto, per sentenza del Tribunale, come i figli non dell'utero in affitto, ma per esempio se io dovessi sposare una che ha un altro figlio, ho una procedura facilitata perché può diventare mio figlio, anche se non è mio figlio biologico. Quindi, non c'è nessuna discriminazione per questi bambini, era un corteo per l'utero in affitto, perché è chiaro che loro cosa vogliono? Loro vogliono essere riconosciuti immediatamente come se fossero dal comune, immediatamente come se fossero dei genitori biologici. Quindi è una cosa che non è reale. Allora, vogliamo sentire subito su questo? Con la procedura agevolata. L'unica cosa, sul nostro titolo, è un titolo chiaramente femminista, perché è una posizione che hanno molti movimenti femministi, contrari giustamente dal nostro punto di vista all'utero in affitto. Maternità surrogata, si direbbe, in realtà. No, no, è una novità la posizione femminista di Libero, che registriamo, ma andrei subito a sentire Chiara Pendino su questo. Se intanto si sente una donna che odia le altre donne, se si riconosce in questa visione femminista e se ha qualcosa da rispondere alle parole di Senaldi circa l'utero in affitto e i diritti dei bambini, soprattutto perché lei è stata una delle prime ad aprire il registro a Torino quando era il sindaco. Sì, e l'ho fatto perché, intanto mi scuso con la voce, ma una piccola laringite. L'ho fatto perché, quando ho deciso di trascrivere, ho pensato a quale fosse l'interesse più importante e preminente che uno Stato dovesse tutelare. E quell'interesse è quello dei bimbi e delle bimbe. Perché, guardate, posso discutere per ore con Senaldi e con la ministra Roccella, se ci piacciono o non ci piacciono le famiglie Arcobaleno. A me piacciono, le ho conosciute. Ma non è questo il punto. Il punto è che questi bimbi e queste bimbe esistono. Sono anche bellissimi e noi, come Stato, dobbiamo tutelarli. E ci sono due balle, mi scusi, che io continuo a sentire, anche stasera, oggi di nuovo, alla ministra Roccella. Cioè, non è vero che si sta introducendo la maternità surrogata con questo regolamento. Non c'entra niente, tant'è che in 24 paesi su 27 dell'Unione Europea è vietata. Quindi non è questo il punto. Cosa vuole fare questo regolamento? Cosa facevano le trascrizioni? Che io ho fatto con orgoglio. facevano accedere questi bimbi e queste bimbe a diritti che oggi non hanno. Perché i due genitori, se non sono riconosciuti, faccio degli esempi pratici. Uno dei due genitori non può andare a prendere il bimbo a scuola. Uno dei due genitori non può andare a trovare il bimbo in ospedale se sta male. Quindi non ha diritto ai diritti patrimoniali, all'alimenti. E attenzione, ci sono anche dei doveri. Ma non è così. La sindaco, c'è onorevole, non è così. Senardi, io non l'ho interrotta. Allora Baby Sitter non ha diritto ad andare a prendere il bimbo a scuola. Ma lei non può dire queste cose qui. Io capisco che non le piaccia. Io capisco che non le piaccia quello che dico. I bimbi vengono a scuola, perché sono dai genitori a scuola. Ma lei non può dire queste cose. La gente vive, aspettate Senaldi, aspetta un secondo. Questi bimbi, queste bimbe, voi continuate a dire che hanno gli stessi diritti e non è vero. E per di più, parlate di questa procedura di adozione. Ma io le faccio una domanda a Senaldi. Ma la procedura di adozione lo sa quanto costa? Lo sa quanto stress e quanto tempo impiegano queste famiglie? Meno dell'utero in affitto, sindaco. Meno dell'utero in affitto, costa. Ma perché bisogna negare questi diritti a questi bambini? Allora, non c'entra niente l'utero in affitto. Allora, onorevole Appendino, chi fa l'utero in affitto non ha problemi di costo di trascrizione. Chi fa l'utero in affitto non ha problemi di costo di trascrizione. Chi ci ascolta da casa capisce che c'è un problema di ideologia. C'è un problema di ideologia. Questo governo non vuole affrontare un problema pragmatico. Questi bambini in altri paesi d'Europa hanno due genitori. Quando vengono in Italia non vedono il secondo genitore riconosciuto. Questo significa diritti e doveri. E questa è la risposta che noi dobbiamo dare. Automaticamente. Perché se no creiamo bambini di serie A e serie B. Che poi ci hanno questi bimbi e queste bimbi. Torniamo da voi subito. Aspetta un attimo. Perché io vorrei che, siccome giustamente Chiara Appendino diceva che questo è importante per chi ascolta. Perché chi ascolta può essere tratto in inganno dal fatto che si tratti appunto di una discussione relativa al diritto di concepire figli in una forma che in Italia non è regolamentata. E quindi in questo momento è illecita o illegale. Ma che altrove in altri paesi d'Europa e del mondo si può fare. Il problema, diceva Chiara Appendino, non è il comportamento a monte. Quello che fanno i genitori. Il problema sono i diritti di questi bambini. L'asilo, la salute, il pediatra. Allora, è in questo senso che lei dice, se ho capito bene, quando io ero sindaco registravo queste nascite e registravo le coppie all'anagrafe per tutelare i bambini. È così? Esattamente così. Ho tanta famiglie che hanno visto i bimbi e le bimbe poter accedere a quello a cui accedono tutti gli altri bambini. E aggiungo un ragionamento. Ci sono anche dei doveri. I genitori, nel momento in cui vengono riconosciuti, hanno dei doveri. Lo Stato ha dei doveri nei confronti di questi bimbi o queste bimbe. Perché accanirsi contro? Poi ripeto, guardi, io e famiglie Arcobaleno le ho conosciute, sono famiglie straordinarie, ma non è questo il punto. E continuare a buttarla sul tema dell'utero in affitto, per dirla brutalmente, vuol dire spostare l'attenzione in modo ideologico rispetto al punto. La domanda che dobbiamo porre alla Ministra Rocella oggi è, questi bimbi o queste bimbe devono pagare le colpe e quindi non accedere a tutti i servizi e diritti che hanno altri bambini nel nostro paese. Per me è inconcepibile. Ma quali servizi è questo il modo? Aspetta, un attimo, un attimo. Sentiamo Senato, l'esempio che lei ha fatto della babysitter non è calzante per nulla, perché la babysitter certo che può andare a prendere le famiglie a scuola. Ma lo devi scrivere, lo devi notificare tutte le volte, se sei il papà ci dai, no? Franco, allora aspetti però, torniamo al punto politico. Dice l'onorevole Appendino, c'è una questione ideologica, cioè il centro-destra, la destra, su questo lo pone come un tema ideologico. Poi però c'è la società, e allora la domanda che le faccio è esattamente questa. C'è un centro-destra che vuole tenere il punto per ragioni storiche proprie, e poi però c'è una società che rispetto a questo è molto più avanti. Cioè quei bambini ci sono materialmente. C'è sala, no? Noi siamo più avanti. Esatto. Ma devo dire, tanto mi sento un po' in imbarazzo a trovarmi tra queste due posizioni così polarizzate, devo dire che quello che noto intanto è che il dibattito sembra quasi un dibattito referendario, come se si preparassero la destra e la sinistra ad un referendum su questi temi, che come sempre succede, privilegia sempre le posizioni più estreme. Io credo che ci sia un fatto ideologico forte per quanto riguarda l'atteggiamento della destra, ma credo ci sia un po' di ideologia anche nella sinistra. Cioè ho la sensazione che in questa vicenda ognuno parli al suo elettorato in realtà, non parla agli altri, con gli altri, sta parlando ai suoi. E su questo ho la sensazione che prevalgano le posizioni più dure e rischiano di prevalere sempre di più. E onestamente in un momento come questo l'idea che l'Italia venga polarizzata su una questione così delicata, che riguarda veramente i bambini e le bambine, beh, questo è qualcosa che onestamente non incoraggerei, ecco, sinceramente. Infatti è una questione che abbiamo affrontato anche ieri nell'intervista con Rampelli, di cui adesso rivediamo un frammento, è una questione che nemmeno i governi di centro-sinistra sono riusciti a risolvere tante volte. Lo Iussoli, la questione dei diritti dei figli e delle coppie omogenitoriali, il centro-sinistra, il governo, con l'uno e l'altro dei governi in cui è stato negli ultimi anni, compreso il governo con i 5 Stelle, dico a Chiara Appendino, cioè quando il PD era il governo con i 5 Stelle, questa legge sindaca non si è riuscita a fare. E la legge 40 era del 2004, lo ricordiamo per il nostro pubblico, la legge sulla procreazione assistita, così detto. Eppure eravate maggioranza Appendino? Ma guardi, mi faccio solo rispondere un secondo a Franco, vorrei dire chiaramente che io non ho una posizione ideologica, ho fatto la sindaca, ho trascritto perché volevo tutelare quei bambini, quelle bambine, ed è proprio su questo fronte che ci dobbiamo confrontare, dobbiamo superarla l'ideologia, io sono pragmatica, allora a questi bambini e queste bambine io sento il dovere, quando rappresento lo Stato, di dargli delle garanzie e delle tutele perché non si devono sentire discriminati, non mi sembra che ci sia nulla di ideologico in questo, mi sembra che sia un fatto pratico, devono accedere ai servizi sanitari, sì o no? Possono avere le stesse tutele degli altri? Per me sì, e allora questa domanda che ci dobbiamo rispondere, possiamo valutare sul come farlo, ma oggi le strade sono due, la trascrizione e soprattutto mi sento di dire che la cosa che ha fatto questo governo, o meglio al Senato la maggioranza, di bloccare il regolamento, ricordiamoci di cosa stiamo parlando, di dare un parere contrario a un regolamento che prevede un certificato che possa funzionare in tutta l'Unione Europea affinché quel bimbo sia riconosciuto come tale in tutti i paesi. E non è vero, come viene detto dalla Ministra ancora oggi, ed è grave che lo dica una Ministra, che impongono agli Stati, i membri in particolare anche all'Italia, di accettare e di andare in ottica e quindi introdurre nel Paese la questione dell'utero in affitto o questo tema qui. Non è vero, c'è scritto esplicitamente, se volete ce l'ho qua, il regolamento. Il problema è che il centro-destra, siccome non è capace di andare oltre l'ideologia, non affronta il punto. Cioè ci rendiamo conto che parliamo di migliaia di bambini. Lo risentiamo Rampelli e poi le ridiamo subito la parola così. No, era solo questo. Se era un fatto di pragmatismo, e mi rifaccio a quello che diceva Concita De Gregorio, come mai quando siete stati al governo questo tema non è stato in cima ai vostri pensieri? Guardi, io posso rispondere per me, posso dirle che quando mi sono trovata a essere sindaca, a avere la penna in mano, la firma l'ho messa. Poi c'è un vuoto normativo, il vero nodo, che c'è un vuoto normativo. E che anche con la maggioranza di centro-sinistra non si riuscirà a colmare. Rampelli, ieri, a Inonda, al posto di Franco, sentite che parole ha utilizzato su questo. In Italia non è possibile, ma se una coppia formata da due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento, cioè l'iscrizione all'anagrafe di un bambino che spacciano per proprio figlio, significa che comunque questa maternità sullocata l'hanno fatta fuori da confini nazionali. Mi scusi, perché finiamo sui giornali di tutto il mondo. Non è che lo spacciano per proprio figlio, il bambino è il loro figlio. Allora, tornando alla discussione che mi sembra molto interessante... Però questo non è vero. Non è vero cosa? Pietro Senaldi diceva che la mia è una posizione, la nostra, quella del giornale è una posizione femminista. Io sono ansiosa di sapere in che senso è femminista questo titolo Donne che odiano le donne, e che cosa non è vero secondo lei? Allora, è femminista perché riecheggia posizioni di movimenti femministi che si sono espressi contro l'utero in affitto. Non è vero che nel momento in cui nasce il bambino dell'utero in affitto è figlio di entrambi la coppia gay. È figlio del padre biologico e l'altro dovrà adottarlo con la procedura agevolata e ne diventerà il padre. Ma non è che quando il bambino nasce... È questo il punto. Non è automaticamente riconoscibile. Ci vuole una procedura giuridica. Punto. Comunque, appena nasce e viene riconosciuto da genitore biologico, ha tutti i diritti. Io vorrei solo dire questa cosa. Poi, io... Perché noi siamo contrari all'utero in affitto? Perché noi poi alla fine si rischia che la paternità diventa un gioco per ricchi, no? Cristiano Ronaldo, Elton John, magari uno ha tre figlie femmine, dice tenta il maschio, è ricco, e prende un utero in California. Che magari gli esce un figlio maschio fra nove mesi. succede così, eh? Non è tanto questo, non è tanto vero questo, scusi. Adesso magari darò la parola a Chiara Pendino. Oggi su questo, che tra l'altro è la festa di San Giuseppe, è Michi Vendola, che come sapete ha avuto... Nell'80% dei casi in America lo fanno gli eterosessuali, l'utero in affitto. Non è sempre questo, non è sempre così. Nell'80% Non è una pratica per ricchi. In Ucraina, dove prima della guerra, come lei senz'altro sa, Senaldi, la pratica è legale, lecita, è normata, con delle regole precisissime. L'Ucraina è una sede di pellegrinaggio, diciamo, di coppie che non riescono ad avere figli, e in molti casi i costi, diciamo, di questo genere, sono veramente molto contenuti. Se ne è parlato tanto, perché dopo la guerra molti di questi bambini sono rimasti, come dire, bloccati negli ospedali e le infermiere se ne stanno prendendo cura. Sono figli che dovrebbero essere restituiti, diciamo così, alle loro famiglie. Ma su questo ancora un momento, Chiara Pendino, in replica, e poi sentiamo Massimo Franco. Guardi, io continuo a sentire buttarla in cacciara, sostanzialmente, sul tema dell'utero in affitto e non sento risposte sul punto. E questo mi fa tornare a un ragionamento, dottoressa, che a me è quello che più preoccupa di questo governo. E cioè che c'è questa ideologia, tra l'altro la ministra Rocella oggi l'ha anche detto in modo palese, che abbiamo visto anche nelle dichiarazioni di Rampelli, in cui fa finta che non esistano le famiglie Arcobaleno, questa ideologia che li porta a scelte profondamente sbagliate e discriminatorie. Ora parliamo dei bimbi e delle bimbe, che sono minori che dovrebbero essere tutelati in uno stato normale. Ma questa ideologia, è la stessa che vediamo ad esempio sul tema dei migranti, sul tema del lavoratore povero, sui percettori di reddito di cittadinanza, cioè sono totalmente offuscati da una loro narrazione e non affrontano i problemi reali delle persone. Perché guardi, vediamo il tema dell'ideologia sul lavoro povero. Per loro non esistono i lavoratori poveri, anzi attaccano e tolgono il reddito di cittadinanza, gli tolgono i suss... Perché devono narrare un paese in cui sostanzialmente colpevole. Allora, questa ideologia, dottor Senaldi, questa ideologia, dottor Senaldi, porterà il paese a schiantarsi. Allora, io vorrei fare un dibattito sul tema di oggi che non è però la maternità surgata, è giudo, è il regolamento dell'Unione Europea. Poi, io sono contrarissima allo strutturamento della donna, ma questo è pleonastico e palese, il punto è che questi bimbi esistono. La casa, penso che capiranno che abbiamo qualcuno che urla concetti che non c'entra niente, è una persona che cerca di ragionare con i fatti. Allora, io vorrei tornare sui fatti. A me preoccupa, ripeto, un governo che non affronta i problemi reali e racconta attaccato un'ideologia tematiche con cui non riescono a dare risposte. Oggi parliamo dei diritti, diritti civili, ci sono anche i diritti sociali e su questo il governo non risponde. Sentiamo Franco un secondo, Senaldi, torniamo da lei immediatamente, capisco la passione, ma un attimo Senaldi, Franco. Quindi entrambi negano che sia una posizione ideologica intornando a quello che diceva Franco. Esatto, però poi c'è anche un'altra questione oltre a questo che ti vorremmo chiedere. Se secondo lei i diritti civili alla fine incidono ora non abbiamo elezioni imminenti avremo le prossime sono elezioni europee in cui ognuno va per sé e non si elegge un governo ma questo tema dei diritti civili che adesso si è riacceso con la destra al governo scalda le urne poi in prospettiva o l'elettore se non altro? Ma se viene affrontato in questo modo secondo me non molto perché mi sembra che non ci sia un dialogo ma solo un'affermazione perentoria delle proprie posizioni e poi notavo in questo dibattito che in realtà poi l'onorevole Appendino giustamente dal suo punto di vista diceva che il tema non è solo questo ma sono anche i diritti sociali e quindi è una discussione più generale sul governo di Giorgia Meloni e della destra quindi questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che questa sia una sia uno dei temi sui quali noi vedremo in questi mesi in questi anni questo scontro così all'arma bianca ma in realtà ho la sensazione che siccome il problema è di tutta la cultura di questo governo ci sia un po' qualcosa che prescinde dal merito cioè cioè che in qualche modo per quanto riguarda le opposizioni mi dispiace ma uso un termine plurale sono tre ecco ci sia anche la volontà di marcare un territorio rispetto all'alleato prima ancora che rispetto al governo cioè sono temi identitari sono temi identitari sui quali mi pare di capire che nelle ultime settimane prima il salario minimo adesso per quanto riguarda il problema del riconoscimento dei bambini delle coppie omosessuali ci sia molto anche competizione è stato notato che non è andato Conte a Milano in questo senso volevo chiederle qualcosa che va un po' oltre il contenuto e questo insospettisce un po' proprio questo volevo chiederle onorevole Appendino cioè l'assenza di Conte certo nessuno è ubiquo nessuno può stare ovunque contemporaneamente però le piazze specialmente in questo momento sono simboli molto molto osservati e molto come dire sono termometro di qualcosa che sta cambiando quindi Conte non era a Milano e qualche giornale ha fatto notare che nella competizione con il Partito Democratico e con effetto Schlein diciamo che la posizione di Conte del Movimento 5 Stelle entra un po' in sofferenza sui temi tradizionali identitari dell'ultimo Conte diciamo così guardi per noi conta il nostro programma elettorale che su questi temi è sempre stato netto poi faccio una riflessione anche rispetto a quello che è stato detto in studio a me personalmente al Movimento non interessa non è una questione elettorale io porto avanti le battaglie dei diritti civili perché penso che sia giusto per il Paese non perché per forza porti voti porto avanti la battaglia per il salario minimo quindi almeno uno stipendio 9 euro all'ora perché in questo Paese se ne parla troppo poco cioè noi abbiamo un Paese in cui abbiamo 5 milioni di persone che sono povere e lavorano cioè non arrivano a fine mese nonostante ore e ore di lavoro perché hanno paghe da fame e quindi noi questa battaglia la portiamo avanti perché è giusto introdurre nel nostro Paese un minimo per garantire dignità alle persone portiamo avanti una battaglia ad esempio la conoscete sulla crescita legata agli investimenti per tutelare il tema ambientale che significa poi posti di lavoro come super bonus ogni volta che troviamo un alleato su questa strada su questo tema noi siamo ben contenti quindi non è una competizione sui voti è una competizione di tipo che Paese vogliamo noi vogliamo un Paese dove si lavori e se lavori arrivi a fine mese vogliamo un lavoro dignitoso che non sia precario vogliamo un Paese che investa sulla crescita ad esempio tramite strumenti che sfruttino il tema dell'efficientamento energetico questo vogliamo questo che le dice è ovvio è giusto è chiaro però che la fotografia delle tre opposizioni c'è ed è plastica andiamo alla CGL calenda da quel palco dove hanno parlato Schlein dove hanno parlato un po' tutti la terza opposizione la famosa terza opposizione eccola là vediamo potrei governare con le persone che sono qua no perché non condivido scusate io ve la dico dritta perché sennò stiamo a prenderci in giro poi voi fate i fischi e tutto quello che dovete fare allora rica io volete volete che vi racconto che all you need is love o volete che vi dico come la penso amici belli voi fate 200 manifestazioni per difendere la democrazia fatemi finire di parlare la monnezza nelle discariche inquina molto di più io la penso agli antipodi delle persone che sono qua vi volete leggere due numeri prima di mettere i titoli così appesi in aria perché sennò se fanno male tutti quanti poi mi preoccupa di più come è successo quando tu con il tuo amico Matteo Renzi voti con la destra quando votate su alcune emozioni no 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 invece dei faipecoroni ragionateci prima di applaudire noi con la destra non abbiamo mai votato dai allora diciamo si intravede qualche criticità Massimo Franco all you need is love sarebbe tutti insieme appassionatamente sì ma era chiaramente una cosa sarcastica abbiamo scoperto anche una calenda che si esprime in romanesco dal cuore come si dice però devo dire due cose la prima è che non mi pare che i grini siano felici quando Elislein si impossessa e rilancia i loro temi perché quello che abbiamo notato in queste settimane è stata una certa stizza per il modo in cui il PD ha preso alcuni temi del Movimento 5 Stelle e le ha fatti i suoi rilanciandoli devo dire con una maggiore eco secondo io non credo neanche che ci sia un'opposizione che tenderà ad essere unita ad esempio sulla politica estera anzi ho la sensazione che fino adesso il Movimento 5 Stelle abbia sofferto il protagonismo e la novità di Elislein ma sia pronto ad attaccarla nel momento in cui si dovrà esprimere sia il PD sia il Movimento 5 Stelle sull'Ucraina quando accadrà questo così lo in settimana quindi quello che io vedo in realtà è un'opposizione che finge di essere unita soprattutto PD e Movimento 5 Stelle ma la felicità di vedere questa convergenza verrà messa secondo me a dura prova molto presto abbiamo lo spot super spot e torniamo e subito sentiamo da Chiara Appendino qual è il suo giudizio su Elislein assolutamente e il nuovo titolo femminista di Libero di domani super spot a tra poco abbiamo meno di un minuto allora flash di Appendino e poi il titolo di Libero di domani con il condirettore Senaldi prego Appendino sulla sua relazione il suo giudizio su Elislein guarda io sono contenta che su temi come salario minimo su cui il PD ti tubava perché è stato praticamente affossato dal PD oggi ha una linea coerente non mi stupisce devo dire che sulle armi ci siano posizioni diverse ma la nostra è nota è anche identitaria quindi non è che questo significhi essere avere una forma di stizza nei confronti di Elislein anzi le faccio grandi auguri di buonissimo lavoro noi porteremo avanti i nostri temi come dicevo e chi sarà con noi saremo contenti di averlo al nostro fianco Appendino se lei avesse votato alle primarie del PD avrebbe votato Elislein o Bonaccini? ma io non voto alle primarie del PD in ipotesi se avesse dovuto che avrebbe preferito come segretero se avessi dovuto votare? sì ma guardi non entro non entro nelle dinamiche dell'altro partito le posso dire che Elislein è una persona che stimo da donna a donna va bene io spero di averla anche al mio fianco su alcune battaglie come ad esempio la battaglia sulla casa dove il governo sta tagliando d'accordo quindi io spero di avere altre forze progressiste al nostro fianco il titolo di Senaldi di domani femminista dopo la patata bollente che tutti noi ricorderemo anche quello un po' femminista quello a suo modo forse sì però titolo politico la patata bollente va bene torniamo al titolo femminista di domani il nostro titolo è sì vai il nostro titolo è l'annunziata ha perso la testa pensava di essere ancora al comizio della CGL invece era sulla RAI intervistava un ministro e gli ha detto ci puntini puntini questa leggergliela devi fare va bene insomma questo è un po' un figlio macista il machismo dell'annunziata grazie Massimo Franco grazie a voi grazie grazie Pietro Senaldi Chiara Pendino e Massimo Franco e noi con voi ci rivediamo sabato prossimo più o meno alle 8 e mezza segue Massimo Giletti con Marco Travaglio Alfonso Sabella Gaspar e Mutolo prosegue l'inchiesta sulla rete che ha protetto Matteo Messina Denaro gettate il telecomando ci vediamo sabato prossimo Musica